E inizia una nuova puntata, notizia sul Gubbio del 1 aprile 2015. Andiamo subito a leggere sul portale Gubbio Fans. Allora, un attimo, ecco. Allora, Gubbio contro l'Ancuna, convocati e prezzi ribassati. Gubbio contro l'Ancuna è in campionato in una data insolita, il giovedì santo, e è in un orario proibitivo, ore 19.30. Bah, quando caperò sti orari della Lega Pro, vabbè, andiamo avanti. Ma questo è ormai il calcio spezzatino, il Gubbio deve fare ancora meno degli infortunati Marchionne e Galuppo. Ma rientra Mancoso, il tecnico di Leonardo da Cori vuole riscattare subito il brutto capo in trasferta con la tuto coio. Dobbiamo reagire dopo una sconfitta assurda, per fortuna si gioca subito, cercheremo di conquistare i punti che ci mancano per la salvezza in casa. Grande rispetto dell'Ancuna, dove ci sono con Nacchini e Tasso, due persone che stimo perché li ho voti come miei calciatori. Ma noi dobbiamo fare punti con l'aiuto del nostro pubblico. Con il rientro di Mancoso si torna all'antico, si deve dare 4-1-4-1 e viene messo da parte il 5-3-2 all'iniziatore del minacca scorza. Quindi Giannarini in porta, difesa 4 con Luciani, Manganelli, Lasichi e Danna, Loviso Premecar davanti alla difesa. Poi in quartetto i centrocampisti con le ali Mancoso e Tutino, in mezzo il duo Guerri e Casiraghi, come centravanti, Regolanti e in ballottaggio con Cais. Il tecnico a Coria ha convocato 20 calciatori, Bentoglio, Cais, Caldoli, Casiraghi, Castelletto, Citti, Danna, Domini. Esposito, Guerri, Annarilli, Lasichi, Roviso, Luciani, Mancoso, Manganelli, Regolanti, Rosato, Tutino e Vettraino. Per l'occasione è stata indetta la giornata rosso-blu, pertanto anche gli abbonati si dovranno il munire del biglietto. Questa già l'ho fatto, quindi domani forza gruppi. Ma i prezzi sono stati ribassati di 5 euro rispetto agli altre occasioni. Ecco i prezzi, tribuna VIP 20 euro, tribuna laterale 15 euro, gradinata 10 euro, curva 5 euro, le donne pagheranno in tutti i settori 5 euro, tranne tribuna VIP. In Casancona sono Out, Mallus e Di Erna, per squalifica. L'allenatore Connacchini potrebbe rispolverare il 4-2... Porca maledizione se sta a scaricare il telefono. Allora, il 4-2-3-1 stato dall'andata, travergendo il 3-4-3 e non è escluso un tornovole. In Porta Valori, quartetto difensivo con Canji, Paoli, Dorazio e Parodi. Un duo di mediani formati da Camellucci e di Ceglie. Dei quartisti con il trio Lisai, Bondi e Tulli. Di punta, Paponi, che però è in ballottaggio con Tavares, arbitra l'incontro del signor Pasquale Borgi di Salerno. Claudio Vata dagli assistenti di linea, Giuseppe Monetta di Salerno e Lorenzo Bagnara di Nocera Inferiore. Ah, e questi del sud, come al solito, fanno sempre casino. Speriamo bene domani. Forza Gubbio e, mi raccomando, tutti allo stadio. Tagli. 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 Tagli.